Il maltempo se ne va dalla nostra penisola. Per la giornata di oggi, domenica 5 marzo, è atteso un miglioramento delle condizioni meteo tale che la protezione civile ha diffuso un'allerta meteo gialla che riguarda settori di due sole regioni del sud Italia, la Puglia e la Sicilia. Trattasi di un'allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.